Dottore Pacenza, il 21 di ottobre si terrà un convegno che durerà due o tre giorni dedicato al diabete, l'emergenza che torna alla normalità. Sì, tra emergenza e ritorno alla normalità e la terza edizione si parlerà di diabete tra i migliori esperti in questa materia che abbiamo in Italia. È un'occasione importante per la nostra città perché oltre ad accogliere questi professionisti dal punto di vista scientifico e culturale sarà un'occasione anche per la nostra città a mostrare il volto a questi amici che vorranno sicuramente gustare sia delle bellezze paesaggistiche che delle condizioni enogastronomiche del nostro territorio. In tutto questo il diabete è una patologia diffusa? Assolutamente sì, se restiamo alle nostre latitudini noi abbiamo un'utenza di circa 16.000 persone con il diabete sia di tipo 2 che di tipo 1, quindi è una sfida impegnativa rispetto alla quale noi ci stiamo misurando in questi anni. C'è il know-how in questa sfida nel senso che per curare il diabete ci sono nuove terapie, nuovi sistemi insomma? Sì, proprio di questo che si parlerà, si hanno a disposizione nuovi farmaci, si hanno a disposizione nuove tecnologie che sono state messe in evidenza anche in questo periodo particolare che è stato quello del lockdown. Di questo si parlerà e soprattutto ci si dovrà confrontare per verificare cosa è possibile fare nei prossimi anni per continuare a stare al passo con i tempi su di una patologia che è molto insidiosa. Dove si terrà questo convegno? L'Ido degli Scogli dal 21 fino al 23 ottobre prossimo 21. E la terza edizione? Terza edizione significa questo che, lasciatemelo dire, godiamo di una certa, all'interno del panorama diabetologico italiano, di una certa credibilità perché, ripeto, qui convoglieranno tra i migliori specialisti che abbiamo in questa materia in Italia. Grazie a tutti.